Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Si ricorda che è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade, in A1, in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Incisa Reggello e Firenze Sud, code a tratti tra Firenze Nord, il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, due chilometri di coda e traffico bloccato per incidente tra il bivio con la variante di Valico, La Quercia e Badia, rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, code a tratti tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Monte San Savino e Valdichiana. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!